La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e l'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP. Grazie a tutti.